Allora cosa ci dice di questa uscita? Che bella la discesa, la discesa grazie! Ma va che siamo in salita! Vai, pedala, fai finta di pedalare! 43 all'ora! Eccoci, arrivati a Bisogne, al chilometro 11.26. Adesso cominciamo la salita, ragazzi fra un attimo la strada si impenna e noi ci mettiamo in posizione penosa, molto penosa. Rotonda, vedete il max? E adesso andiamo ad imboccare la strada per il Colle Santino. O che ve la staccia, ragazzi fra un attimo la strada si impenna e noi ci mettiamo? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.